Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! Le piacciono le donne che sanno di merluzzo? No, mi piacciono i merluzzi che parlano come le donne! Dis! Daie! Vi aspetto! Ci vince la prossima, ci vince la prossima! Vi aspetto! Ma che cazzo è Playboy Carti? Ma cosa cazzo è? Porco Diaz, sembra il mix tra un giornalino porno e un album di figurine Ma porco Diaz cosa vuol dire? Andiamo! Non... Un hater l'ho mai insultato in real life Ne ho beccato una volta uno Che era un pistolino alto così Cioè avrà avuto 14 anni, ha fatto lo sbruffone Ho aperto una mano e gli ho detto Ascoltami Piantala Ha smesso Ha smesso Non metta i gufi No, Gesù grande persona Puoi fare quello che vuoi Ho detto che non... Ho detto che non devi stare... Allora, non voglio sentire frenate Oh, porco Dio! Però dai! E che cazzo! La vedo un attimo volante però eh! Sì ma ha visto che è successo! Eh! L'ho vista, l'ho vista! Mi sembra eccessivo! Mi sembra che a me è eccessivo! Vada! Io comunque... Pazza le E pazzo, cosa cazzo, fa 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 A le pazzo, le pazzo, le pazzo Arrivederci provider Proprio qua 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 costa, le pazzo, le pazzo Cazzo, fa 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 Le pazzo le pazzo, le pazzo Arrivederci provider proprio pappa qua 900 patatine alle sottolineature tiso non ce la faccio non ce la faccio rossi se ti dico un altro avuto a caso ma perché marco sotto lino sopra mi regala 50 marco non regali 50 abbonamenti che già mi è tornata oggi la voce io non so cosa cazzo lei e i suoi quadri c'è la legge della scendono e salgono in tempo reale merda cazzo culo ciao bello grazie di cuore grazie di cuore signori 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 ne mancano 36 aglio perché veramente in gta rp ma vaffanculo ho aperto la pagina principale di twitch ho aperto la pagina principale di twitch apparso la testa io 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 me 14 mesi ogni tanto si bloccazza fede ferretti io 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 ciao fede dai e con il quarto mamma mia grazie fede grazie per il quarto grazie per il quattro per il quarto ragazzi non vedo i nuovi eroi secondo me siete solamente un po timidi ragazzi uscite allo scoperto eroi dove sono i vostri abbonamenti condivideteli con noi raga entrate nella ciurma che stiamo per raggiungere il porto punto esclamativo prime raga abbonatevi al canale non ci sono le pubblicità raga non le vedete più non le vedete più dai e lo so che gli aeron tengono un concerto a bologna raga lo so lo so tua mamma succhia i cazzi i cazzi ma come fai a fare un'arma del genere buongiorno Tommy Gerli buongiorno 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 però porca troia mia sorella è una bella smantrappa pure lei aspetta un attimo la prego friend io stavo parlando con un signore lei ha una sorella sì purtroppo ho capito è caduto minchia gli ux minchia meno male siamo passati andiamo ho tenuto io ma è più grande o è più piccola mi scusi più piccola ho capito io non ricordo quanti anni ha lei quindi io ce n'ho ventiquattro venticino faccio questo cazzo c'è perché era proprio un amico nel senso siamo rimasti invece per tanti anni ciao bed e me lo mi si e mi si dichiarò proprio mi piace la figa lo sai gli ho detto mi dispiace che ti devo dire è vero minchia gli si spezia proprio distrutto magari quel giorno che ti stanchi ciao grazie e con calma e concentrazione ragazzi buongiorno emanuele tutto bene dogma preferito della chiesa cattolica non rompere i coglioni e se non c'è dovrebbero metterlo andiamo sarà sempre colpa mia vai tra qualsiasi cosa sarà sempre colpa mia sempre quindi io sono abituato andiamo ti si lo so la roccia per il sociale lo so ma la colpa sarà sempre sempre mia andiamo il lametric costa l'ira di dio ragazzi leo barra guarda se mi vuoi fare un favore iscrivermi adesso su instagram e linkarmi l'eclip e dai il mio vero nome francesca questo cadavere ciao king parte della ciurma parte della nave maiale bastardo grazie per essere dei nostri grazie di cuore ciao bello cosa gli rispondiamo masseo al signor albanian che dice vai a lavorare e cosa gli risponderebbe devo rispondere perché devo faticare se posso fare 40 miliardi in più facendo quello che mi piace punto di domanda e soprattutto non abbiamo la cazzo di mentalità da retrograde medio e vale non è che muovi le mani allora lavori sono fatiche differenti no ma per quel coglione lì che gli ha messo il buco del culo in faccia deve semplicemente ringraziare qualcuno che sta seduto come noi e ha creato la tua app del tuo cazzo di smartphone che probabilmente ti ha pagato quella puttana di tua madre che vende il culo la sera per far sì che tu possa farti figo con i tuoi amichetti quindi prima di parlare e dar fiato a quel culo che hai in faccia pensa a quello che dici amico con la merda nel cervello perché quel coglione di tuo padre poteva metter solo il preservativo prima di ficcare quella puttana canna